Ciao a tutti e benvenuti su MyFootballJersey. Io sono Stefano e oggi vi presento la maglia home del Real Madrid per la stagione 21 e 22. Quella che vedete è la versione player, quella cioè indossata dai calciatori, identica in tutti i dettagli a quella che indossano a loro. Peraltro nella maglia del Real Madrid ho potuto avere la possibilità di provare sia la versione player che è la versione fan e vi invito a cercare tra i video del nostro canale per vedere ad esempio le differenze molto interessanti. La maglia home del Real Madrid come da tradizione è tutta bianca e quest'anno presenta dei particolari azzurri e arancioni che si possono vedere ad esempio nelle maniche, nel colletto oppure tutti gli sponsor che sono, il sponsor principale che è azzurro. Nella mia professionale classifica questa maglia prende tre stelle, è una bella maglia, una maglia che peraltro bisogna avere perché è una delle squadre più forti e conosciute al mondo, però secondo me la maglia del anno scorso con quelle strisce fluorescenti rosa era più bella e meglio riuscita. Ora vi lascio alla parte restante del video in cui potrete vedere tutti i dettagli della maglia, ci troviamo alla fine per i saluti finali. Ciao! Nella versione player lo stemma del Real Madrid e il simbolo dell'Atidas sono termosaldati, il che concede maggiore comfort ai calciatori. Anche il main sponsor è termosaldato di colore azzurro come i dettagli sulle maniche. In controluce si può ammirare la trama della maglia a spirale ispirata alla fontana del Cibele. La versione player utilizza la tecnologia Eat Ready di Adidas. Sul colletto e nelle maniche è presente questa bella lavorazione che Adidas adotta nella versione player dell'anno 21-22, così nella maglia del Real Madrid ma anche su altre maglie come quelle della Juventus ad esempio. Anche le strisce Adidas sulle spalle sono termosaldate. Il retro della maglia, così come il fronte, è completamente bianco. Sul retro della maglia è presente questo simbolo a spirale ispirato alla piazza e fontana del Cibele, simbolo e luogo caro al Real Madrid. Spero che il video vi sia piaciuto e spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale per poter essere aggiornati ai prossimi video. Ora vi lascio alla parte restante in cui vedrete le misure della maglia e la vestibilità. Ciao, a presto! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg. Quella che vedete è una taglia large della versione player. La versione player dovrebbe essere normalmente attillata. Questa maglia è probabilmente in maniera voluta un pochino più morbida. Noi, ma la piaccia, che però真的 non abbia il filmo della maglia. Non sono molto più morbida. Noi, ma la piaccia, che vedete. Ciao, a presto. La prossima, ciao! Buon appetito, c'è un'altra?